E torniamo in diretta dal Festival Serre d'Estate, dal vivaio Il Filo d'Erba di Rivalta di Torino perché stiamo raccontando la seconda giornata di Serre d'Estate 2024, Asterisk, declinazioni umane al futuro. Intanto sono veramente felice perché in questi due giorni l'abbiamo anche un po' rincorsa con grande amorevolezza ovviamente, ma adesso è qui con noi, nello spazio di RBI Radio TV, Elisa Aresu. Ciao Elisa. Ciao, ciao a tutti. Intanto benvenuta all'interno della nostra diretta, del nostro racconto. Elisa Aresu è presidente della comunità Il Filo d'Erba. Intanto siamo, diciamo, alla seconda giornata. Sono già successe tante cose. Ieri è stata una prima giornata meravigliosa. Intensissima. Molto partecipata, molto partecipata. Sempre il giovedì rimane un po' un'incognita rispetto alle altre due giornate perché ovviamente è giovedì, si lavora e tutto quanto. E invece ieri la partecipazione è stata altissima anche già dal primo incontro. Il primo incontro è stato sorprendente. Sorprendente. Anche se è nato come qualcosa di molto informale, quindi senza degli ospiti illustri. E quindi è stata una narrazione collettiva che ha trovato uno spazio incredibile, una voglia di partecipare anche con interventi, devo dire, inaspettata. Ecco, ci ha stupito. E poi dicevamo anche poco fa con gli altri ospiti che si stanno avvicendando a questi microfoni che anche l'incontro finale, cioè uno alla fine, io vedevo anche i volti e gli occhi dei tuoi collaboratori, dei tuoi colleghi, molto diciamo provati e stanchi, però continuavano dopo le 23 a far domande a Gasparini che a un certo punto ha detto, io so stare qui a parlare fino a dopodomani, però anche basta. Lasciatemi andare, ha chiesto di essere liberato come stagio. Sì, è stato... C'è una voglia di partecipazione molto forte. C'è voglia di partecipazione, c'è voglia di parlare di questi temi. La scelta del tema, non so se ne avete già parlato in questi giorni, immagino di sì, è stata tanto partecipata e tanto discussa, nel senso che essendo un gruppo di lavoro eterogeneo per età, per provenienza, per tante ragioni, è stato molto discusso. C'è stato un incontro ad ottobre, novembre, non ricordo più, una giornata intera per scegliere il tema e ovviamente ognuno tirava acqua al suo mulino e quindi la scelta poi è arrivata e ricaduta su Asterisk e devo dire che all'inizio è stato comunque un tema che ci ha posto delle domande, ci siamo chiesti sarà così provocatorio, sarà comunque accolto, quanti avranno voglia di discutere di questi temi e in realtà ieri sera secondo me l'incontro con Gasparini è stato veramente la conferma del fatto che c'è voglia di discutere e di confrontarsi. E la cosa bella è che all'interno di Sere d'Estate le domande sono sempre tantissime, poi ci sono anche delle risposte ma le domande sono tante, domande in senso proprio letterale, insomma qui si vuole sapere, si vuole chiedere quindi la scelta degli ospiti è sempre molto focalizzata, ma intanto però spostiamo un attimo il focus sulla comunità Il Filo d'Erba che in realtà insieme a Binaria, al gruppo Abele, insomma la promotrice di questa rassegna, insomma è una realtà, la vostra comunità di cui tu sei presidente da un anno, se non sbaglio, che diciamo rispetto a questa rassegna e rispetto anche ai temi, lo dicevi poco fa, si mette costantemente in gioco, insomma non è una comunità che dà niente per scontato. Allora non dà niente per scontato perché nasce come una realtà non strutturata, nel senso che noi siamo presenti sul territorio di Rivalta dal 1975, il gruppo Abele è presente qui da 50 anni quasi, il prossimo anno però come comunità famiglie si evolve verso la fine degli anni 80 e nasce senza una vera forma a cui attingere o qualcosa a cui richiamarsi, nel senso che nasce spontaneamente da delle famiglie che decidono di mettere a disposizione la loro vita quotidiana, quindi oltre il lavoro, oltre lo studio, oltre a propria famiglia, il proprio tempo extra a disposizione degli altri. Questa è una formula che non è così facile da trovare in giro, nel senso che si basa solo sul volontariato e ha una struttura che non risponde ad un bisogno specifico, risponde ai bisogni che si presentano. Quindi cosa succede che, per spiegare due cosine, noi abbiamo nove alloggi di cui in questo momento quattro sono occupati da persone che risiedono qui, che scelgono di vivere qui, di mettersi a disposizione e abbiamo gli altri cinque alloggi in cui ospitiamo temporaneamente delle famiglie o dei nuclei familiari di qualunque natura che abbiano bisogno di un periodo, noi diciamo un po' di ristoro. Cosa vuol dire questo periodo di ristoro? Che per ragioni diverse, per ragioni economiche, per ragioni di, appunto di come lo diciamo ai bambini, no? Io mi occupo spesso i bambini e come lo diciamo ai bambini questa è una casa per chi in questo momento non ha una casa sicura per sé, quindi o va via dalla propria casa perché non è più un luogo sicuro, oppure ha bisogno di un posto, un tetto sopra la testa, ha bisogno di un posto in cui stare. Quindi non c'è un target a cui ci riferiamo, ma il target viene definito in base ai bisogni che man mano accogliamo, no? Questa è un po' nella natura del gruppo Abele rispondere come è nato, no? Nasce negli anni 60 rispondendo a dei bisogni, oggi evolve rispondendone a altri. Per farvi un esempio, oggi noi siamo qui a parlare di questioni di genere, un anno fa il gruppo Abele apre la sua prima comunità, Papà Bambino. Ci saremmo sognati mai, vent'anni fa, di aprire una comunità per un bisogno come quello del Papà Bambino? No, probabilmente no. Questo vuol dire accogliere, ascoltare il territorio che c'è intorno, ascoltare chi bussa queste porte e cercare di mettersi a disposizione. Questo è un luogo in cui non c'è una cura, noi diciamo sempre, noi non mettiamo in atto una cura, una terapia. Nessuno qua è educatore, pagato per stare tra queste mura a disposizione degli altri. Qua la cura che mettiamo è la relazione, cioè mettersi in relazione, il guardare l'altro e l'essere guardati dall'altro. E quindi in questo clima si inserisce Asterisk e tutto il festival. Sì, perché avevo la curiosità, visto che hai detto che lavori a stretto contatto con i bambini, poco prima eri con i bambini, si dice spesso che i bambini su tanti temi sono più avanti, non bisogna neanche spiegargli le cose perché le colgono subito, perché sono naturali, sono istintive. Ecco, tu puoi confermarci questa cosa anche rispetto al tema di cui stiamo parlando in questa edizione? Sì, assolutamente. Quando arrivano, tra le tante attività che svolgiamo qua, ci sono tante attività educative rivolte alle scuole, rivolte a gruppi di famiglie e altro. Quando arrivano qua i bambini ci pongono delle domande che sono molto più semplici di quelle che ci pongono gli adulti quando raccontiamo di questo posto, perché per loro è molto facile. E quindi è come quando un amico ha bisogno di te e tu gli dici vieni pure a casa mia tutto il pomeriggio, no? Esattamente, questo è quello che succede qua dentro e abbiamo cercato con questa semplicità, che attenzione non è una semplificazione, ma è cercare di rendere accessibile anche ai piccoli questi temi, di fare delle proposte anche ai più piccoli. Oggi in modo particolare c'è la nostra attività preferita, che ormai stiamo ripetendo da tre anni, che è giochi di strada, perché sentivamo il bisogno di voler restituire ai ragazzi e ai bambini uno spazio che è uno spazio collettivo, che è quello della strada. E allora oggi abbiamo trasferito tutte le attività su strada, quindi non è piacevolissimo perché c'è l'asfalto, fa un caldo notevole, però siamo lì. E poi anche i giochi da tavolo gestiti da Perludo, che è appunto un'associazione che si occupa di giochi per ragazzi, e appunto si svolgono sulla strada. Questo perché ci piace che i bambini, i ragazzi, si riprendano gli spazi collettivi. E questa centralità ha un suo significato non solo simbolico. No, perché vorrei dire che anche chiudere la strada alle automobili è un bellissimo gesto. Sì, molto complesso nel 2024, per la burocrazia. Molto complesso nel 2024, però, come dire, è evidentemente uno di quegli elementi che fanno parte, diciamo, dentro della vostra attività. Perché, insomma, io ieri ho aperto, insieme a Dennis, questa terza edizione citando, come dire, una sorta di lista di impegni e di cose che ho fatto ogni giorno all'interno della comunità, che mi sono rimaste dentro sin dalla prima edizione. Fare comunità per creare i ponti, per attivare sinergie. Quella che più mi emoziona è rispondere alle solitudini, e tu l'hai detto benissimo poco fa, insomma, moltiplicare conoscenze e fare resistenza. Come dire, nel 2024 questa è la vera rivoluzione di cui parlavate l'anno scorso. Credo di sì. Credo di sì, perché la conferma ci è data dalla altissima partecipazione a tutte le nostre proposte. Ora, noi siamo al festival, che è particolarmente accattivante per un pubblico, accattivante per il territorio e non solo. Ma noi ci rendiamo conto che questa porta, ogni volta che la apriamo, viene vissuta come un'opportunità. Veramente un'opportunità. E tantissime persone, di qualunque età, trovano uno spazio qua dentro in cui potersi mettere a disposizione dell'altro o ricevere delle cure da parte degli altri. Questo non è banale. Perché le solitudini di oggi sono molteplici. E in questo noi abbiamo voluto parlare di questioni di genere. Perché in realtà, ovviamente, spalanca un mondo, che è un mondo che apre alle fragilità di ciascuno, al trovare la propria strada. Ieri leggevamo Lamurgia parlava, lei parla di soglia, di queerness come soglia, come opportunità, come scelta di poter essere ciò che uno desidera. E credo davvero che questo posto sia questa cosa qui. Cioè, poter dare a chiunque l'opportunità di essere ciò che puoi essere, facendoti forza della presenza e della vicinanza degli altri. Mi fa dire che essere ciò che uno desidera è veramente l'orizzonte a cui dovremmo tendere tutti quanti, che è di una bellezza, di una meraviglia totale. E di una semplicità. E di una semplicità anche totale. Però è così complicato poterlo raggiungere spesso. Tant'è che per domani, per l'attività dei bambini, nel chiederci che libro usiamo, ci piace ovviamente partire da dei libri, da delle storie, dove partiamo, da dove partiamo, e partiremo da Alice nel Paese delle Meraviglie. Perché chi più di lei, nella semplicità di un sogno, ci racconta la molteplicità di tutte le nostre possibilità. E allora staremo in quella pazzia, che è il viaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie, per parlare di chi sono io e dove voglio andare. È vero che ne parleremo con dei bimbi che hanno tra i 6 e i 13 anni. Quindi, bellissimo perché tantissimi vorranno ancora fare l'austronauta, glielo che faremo credere. E sarà bellissimo sostenerli. Però, appunto, questa moltitudine di possibilità. E questo succede domani mattina, no? Domani mattina, dalle 10 alle 12, saremo al Castello degli Orsini, che è la biblioteca meravigliosa di Rivalta, che è inserita dentro un castello. E ci sarà questa attività proposta a noi, a fianco un laboratorio per bambini dagli 3 ai 6 anni di circo, con genitore, quindi bimbo e genitore. E poi gli scacchi e delle letture animate, delle attività di lettura per gli 0-3. E cosa bisogna fare? Ci si deve iscrivere o si può venire? Ci si può presentare. L'unica attività con prenotazione obbligatoria è quella del circo. Trovate tutte le informazioni sulla biblioteca di Rivalta. Allora, siccome siamo quasi in coda, immagino, chiedo conforto ai miei tecnici, altrimenti noi continuiamo, andiamo avanti ancora per qualche minuto. Non andiamo avanti per qualche minuto. Allora io, Elisa, ti chiederei di rimanere ancora con noi, perché dobbiamo parlare diciamo del futuro della comunità del Filoderba. Ho un festival stasera ma posso stare. Hai un festival stasera. Però diciamo, puoi stare con noi ancora 10 minuti. Quindi allora, spazio al GR, insomma, tra poco siamo ancora qui, da Rivalta. Grazie. Siamo ancora in diretta, noi siamo sempre in Rebie, alle nostre spalle, la Serra, però un pochino più in là è arrivata l'ospite. Quindi se sentite una voce in sottofondo, è l'autrice che sta presentando il suo lavoro. Quindi Rene Soave è finalmente arrivata, nonostante i treni. Quindi se vi trovate dalle parti, appunto, di Rivalta potete fare un salto e seguire la presentazione qua in diretta. Tra l'altro uno di quegli incontri sono tutti molto attesi, ma ce ne sono alcuni quest'anno che sono più attesi di altri. Insomma, questo di Rene Soave sullo Statuto delle Lavoratrici è molto atteso come incontro, è cominciato da poco e comunque il pubblico è lì e insomma è come sempre il pubblico di Sera e d'Estate mi viene da dire, Elisa, che è un pubblico davvero molto targettizzato e focalizzato sui contenuti, per cui è disciplinato, ma comunque molto attento ed è bellissimo questa cosa. È molto bello. Un po', devo dire, è qualcosa che all'inizio ci spaventava, cioè un festival solo di contenuto, perché poi è vero che alterniamo con dei concerti. Con un pubblico super intelligente. Un pubblico super intelligente, era difficile, è una grande sfida. No, però è molto interessante perché un po' la formula, un po' il posto, ne avete parlato tanto, secondo me è agevola. Cioè agevola il fatto che uno abbia voglia di sentirsi anche un'ora di approfondimento su qualcosa, sulla presentazione di un libro che poi apre ovviamente sempre dei mondi, però lo fai con una leggerezza secondo me diversa, nonostante l'attenzione che devo dire che è sempre molto, molto, molto elevata. E intanto, cosa che non guasta, si è alzata intanto una leggera brezza e questo ci fa davvero respirare perché fino a poco fa faceva veramente molto, molto caldo. Noi respiriamo di più, ma torniamo alla comunità del filo d'erba. Parliamo anche, diciamo, della materia grigia e dura, dell'attualità, della realtà e della quotidianità. No, evidentemente c'è in campo adesso un progetto di sostegno, diciamo, alla comunità che ha bisogno di un aiuto e di un intervento. Sì, come vi dicevo, no, no, è verissimo. Come vi dicevo prima, questa è una realtà che vive solo di volontariato, nel senso che non essendo una comunità terapeutica, noi non riceviamo alcuna retta, alcun tipo di sussidio, se non appunto qualche bando, qualcosa a cui decidiamo di partecipare. Però la nostra è una struttura antica, è una struttura vecchia del 1800 e in questo momento siamo davanti a una grande sfida per noi che è il rifacimento totale di un tetto delle due case accoglienti, una delle due ha il tetto che era da tanti anni che aveva bisogno di essere rifatto, ma ormai proprio ci chiede aiuto. E quindi, sì, abbiamo aperto una grande sfida, ovvero quella di una raccolta fondi destinata e accessibile a chiunque ci voglia aiutare, anche ognuno proprio con ciò che può, anche con 5-10 euro, per noi fa la differenza. Abbiamo una raccolta fondi attiva su produzioni dal basso e tutte le informazioni le possiamo trovare o su quel portale, che è molto noto per le raccolte fondi, oppure sul nostro sito, ilfiloderba.it. Il progetto si chiama Una casa comincia dal tetto, proprio perché è quello che è un po' più importante. Noi ci mettiamo il tempo, ci mettiamo la voglia, mettiamo la disponibilità ad accogliere gli altri, a mettere appunto la relazione al primo posto, però c'è bisogno di una struttura. Tra l'altro, io ho, diciamo, sulla traiettoria del mio sguardo, il blog che racconta questo progetto per continuare, per poter continuare ad essere casa, insomma, c'è bisogno del sostegno di tutti, perché ovviamente si chiede sempre l'aiuto degli altri, diciamo, anche per cose che non hanno molto senso, fammelo dire, ci sono dei momenti in cui, insomma, si chiede un sostegno anche per progetti che in realtà non hanno un senso, però per tutti i motivi che ci hai raccontato anche prima della pausa, evidentemente qui è il momento anche, anche per questa comunità, per la comunità del festival, se vogliamo, anche di dimostrare di essere, come dire, realmente una comunità che cammina e che si prende per mano. Lo so che questo suona anche retorico, però è un dato di fatto. Noi, come abbiamo detto tante volte, noi siamo abituati a chiedere soldi, siamo abituati a chiedere tempo, a chiedere aiuto, a chiedere volontariato, che comunque è qualcosa che ci contraddistingue, però questa volta ci troviamo davanti a un bisogno reale, che è quello di poter proseguire l'accoglienza, l'accoglienza sotto questo tetto ci sono cinque locali di accoglienza e quindi per mantenerli vivi, ovviamente abbiamo bisogno del vostro aiuto, se potete. Una casa comincia al tetto, su questo non ci piove, abbiamo questo il nostro slogan, e speriamo che non ci piova, perché quest'estate è piovuto tanto, e ce ne siamo accorti. Quindi ho detto ancora più bisogno. Ancora più bisogno. Vorrei sottolineare una cosa, non vorrei essere meno drammatico, però direi che questo può essere un investimento, perché non si sa mai, in futuro, che magari uno possa avere bisogno. Ah, certo, possa avere bisogno. Tra l'altro, proprio in questa struttura, dove rifare moltetto, uno degli alloggi è destinato al progetto Giovani, che è un progetto accessibile a tutti i ragazzi dai 18 ai 30 anni, di un anno di convivenza all'interno della comunità. quindi ragazzi che hanno voglia di provare questa esperienza di comunità e di co-housing, quindi magari proprio qualcuno che è in ascolto può aver bisogno o voglia di provare questa esperienza, ma senza tetto non è possibile. È un investimento vero e proprio. Diciamo che c'è bisogno di fare questa bella esperienza, però con la testa all'asciutto. All'asciutto. La testa così come altro. Allora, questi sono i progetti del presente, che ovviamente si proiettano verso il futuro. Il lavoro è lungo anche, diciamo, rispetto non soltanto a sere d'estate, perché ovviamente la comunità vive un momento, siamo di grande coinvolgimento, anche dentro la comunità più ampia, che è quella della città, e non soltanto, perché sappiamo che arrivano persone a seguire sere d'estate anche da fuori. e vogliamo dire che cosa, se c'è qualcosa, diciamo, all'orizzonte anche dopo il festival, dopo il festival si va tutti al mare. No, dopo il festival, no, magari no. Si continua a fare accoglienza, a fare attività. Diciamo che le attività più culturali, più così destinate anche al territorio, le sospendiamo per un paio di mesi. Riprendono a settembre, riprendono, le potete trovare tutte sulle nostre pagine Instagram, Facebook, e sul sito, riprenderanno le presentazioni e i libri. Un ciclo di incontri che riusciamo, se riusciremo, faremo partire per genitori, proprio i genitrici, sono entrata nel tema, nel senso che l'idea è proprio quella di, in realtà, allargare, quindi chi si occupa di bambini, quindi magari anche il nonno, magari la nonna, magari il babysitter, o la babysitter, che ha voglia di trovare uno spazio in cui confrontarsi. su alcuni temi che poi vi presenteremo, e poi ci sarà la festa del filo d'erba ad ottobre, il primo weekend d'ottobre, ormai da tantissimi anni, ci ritroviamo per festeggiare, mangiamo polenta, ormai ad ottobre fa più caldo che a giugno, quindi magari una grigliata quest'anno. Con calma troveremo un'alternativa, però sì, questo è un po'... Tutto questo con la testa all'asciutto, il progetto allora va sostenuto, questa comunità, nella sua struttura va sostenuta, Produzioni dal Basso, il sito di Binaria, e insomma, ci sono tutte le possibilità che vi ho raccontato benissimo, questa meravigliosa presidentessa, fatemelo dire, insomma, del filo d'erba, Elisa Arezzo, io ti ringrazio moltissimo, ti ringraziamo moltissimo per averci dedicato un bel pezzo, diciamo, di questa nostra diretta, per raccontare il filo d'erba, per raccontare Sere d'Estate, noi ci prendiamo ancora un momento con la musica, tra poco saremo quasi al rush finale, ma insomma, abbiamo ancora da raccontarvi qualcosa da Sere d'Estate 2024. A tra poco.